Ecco a voi una tisana, oggi assorsi di benessere anti ritenzione idrica, alleata quindi proprio del nostro benessere che aiuta a sboffiarci, a toglierci quella sensazione anche di occhi di gambe gonfie, me ne ha suggerita il dottor Antonio Colasanti che è un farmacista esperto di fitoterapia ed è a base di spirea ulmaria, è un'erba meno nota ma è davvero ricchissima di virtù. La prepariamo proprio come prepariamo una classica tisana, mettiamo a bollire un pettino di acqua e uniamo un cucchiaio di spirea all'interno e la lasciamo raffreddare, dopodiché in questo caso noi la beviamo rigorosamente fredda, abbiamo messo del ghiaccio, uniamo la nostra tisana e poi uniamo dei lamponi, anche i lamponi sono non solo ricchissimi di vitamina C ma sono anche alleati della microcircolazione e sono anche ricchissimi di antiossidanti. Che cosa facciamo? Io vi suggerisco di lasciare, no, bicchiere potete anche usare una brocca, riposare un paio d'ore, un'ora, un paio d'ore in frigorifero in modo tale che la tisana prenda anche tutto il sapore dei nostri lamponi, potete unire anche una fettina di lime e la vostra bevanda è gustosissima e altrettanto benefica.